buonasera che sta facendo sta starman a fan nova passi su un mantec a pompa tu a sarai lanka parola perché perché la cacetta una cacetta una cacetta una cacetta una cacetta una cacetta una cacetta perché quando hai fatto il mantec a tre cacetti che tu puoi fare che tu ero la legge in un baraccio in un baraccio a vattamotore pure io non si giovivene entrava per te e c'era questa ciavatta una caccia ma i merluzzi erano pure belle rosse e quante cacette erano 5 o 6 cacette e poi i pruppi 20 kg di polpi 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 comunque ora c'è un porto quando troviamo dentro un borgo marinare e marire quello che sta facendo a stare a armare a stare a armare a metà nuova a entrare a rosse ma che maglie è questa? che roba che è? un rizzo tre maglie tre maglie tre maglie tre maglie tre maglie capito tutti i pisci puramente i pisci i pisci i pisci i pisci i pisci i russi ti stanno a stare a stare a stare a stare io mi stavo sull'ore sull'ore come si alleste non capisci non ho capito non ho capito sull'ore un po' le fonte le fonte sono tre e tu un giudice di un'assistema tu lavori e basta che un'assistema la prossima volta ti chiamano e si imparano e non tutti sono nati a imparare sbagliando si impara o no ecco tu non te ne hai ma guarda che un grande lampista ma è l'ultimo dei mohicani è l'ultimo rimasto la stanno mettendo un motocardo e parto salutiamo tutti i pescatori nel mondo i partiti c'è martolotti come via pisa qui c'è via pisa e poi c'è via marsale e che l'altra via via livorno e perchè ci sono i miei città via messina quindi siamo famosi come strada e via dove stanno guardando no dai una mano c'è la paura la merita la merita quando c'è la ricetta loro ti vengono aiutare a te quando hai bisogno ecco sempre aiutano ecco come si dice una mano lavata e tutti non ti ruba da lavana faccio che tu non richiede mi dai uno richiede mi kaiutama tu te basi nico tu zolù raprosa